Ogni mattina una direttrice acquisti si sveglia, fa un respiro profondo, allaccia la cintura e parte per un viaggio sulle montagne russe. Oh Arianna, sai che hai una luce negli occhi, la vacanza ti ha fatto veramente bene, davvero. Hai finito il budget. Sì, sì, lo so, lo so che ho finito il budget, ma devo dirti una cosa, io ho riflettuto, per l'evento della campagna di lancio io pensavo noi abbiamo bisogno di un gadget wow, in modo tale che l'evento se lo ricordano tutti, un gadget wow ma green. Bene, e tradotto in italiano, cosa dovrei comprare? Bulbi di zafferano italiano, green, 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 1500 bulbi, bulbo, Italia, zafferano, così uniamo territorio, bulbo, Italia, zafferano, wow. Ci sono 1500 invitati e tutti faranno wow, wow, green. 1500 bulbi? Sì. E dove li mettiamo? Eh già, va bene, contenitore, quello anche di plastica dai, dai nostri fornitori il prezzo lo troviamo. Ma non era green, green, green? Sì, ma il bulbo. Ehi, alla community viene a salvarti, hai detto bulbi? Considera che l'anno scorso sono andato al Procurement Sostenible Summit e li hanno venduti tutti, sono andati a ruba. Ottima idea, ma siamo sicuri fossero bulbi di zafferano? No, però li ho piantati e sono usciti dei bellissimi fiori gialli, così almeno sul colore è risolto, dai. Zafferano no, giallo sì. Diventa membro della più attiva community del Procurement italiano e scopri tutti i vantaggi. Se sono fiori, fioriranno e se sono bulbi, bulberanno.